Cresce il numero dei contagi in Liguria, il centro storico di Genova rischia di essere dichiarato zona rossa. Allo studio nel nuovo DPCM la riduzione della quarantena e tamponi veloci. Cinque nuove classi in quarantena nel Tiguglio, si tratta di tre istituti superiori di Chiaveri-Rapallo, una media del comprensivo Rapallo-Zoagli e un elementare di Rapallo. Volontari all'Esbo contro l'indifferenza dell'Europa, Rapallo la testimonianza della comunità di Sant'Egidio, questa sera la registrazione integrale sul canale 15 di Telepace. Per Gesù non ci sono esclusi, tutti sono degni del suo amore, lo ha ribadito Papa Francesco all'Angelus, al termine dell'appello per una presenza più incisiva delle donne nella Chiesa. La comunità di San Bartolomeo della Ginessa ha celebrato Nossa Signora del Soccorso, stare davanti a Dio è la prima forma di preghiera, ha spiegato Monsignor Alberto Maria Careggio. Riparte in presenza la scuola di Teologia Mater Ecclesie, già aperte le iscrizioni, i corsi inizieranno lunedì 26 ottobre, novità di quest'anno il corso facoltativo sull'ebraismo. Premi a Sessi Levante per i nonni dell'anno del 2020 e per il concorso delle scuole, riconoscimento anche ad Anto Enrico Canale, presidente merito dell'associazione Uleudo e ideatore dell'iniziativa. Buonasera, buonasera a tutti gentili telespettatori e benvenuti nei nostri studi. Sono 186 i soggetti positivi al coronavirus rilevati quest'oggi in Liguria, a fronte di un numero relativamente basso di tamponi effettuati, 1570. Il numero più alto di contagi si rileva nell'asele tragenovese, che sono 119, due decessi, un uomo di 90 anni ricoverato nel reparto di medicina dell'ospedale Villa Scassi di Genova e un uomo, 53 anni, deceduto nel reparto di rianimazione di Sarzana. Gli ospedalizzati in tutto il territorio regionale sono 21 in più rispetto a ieri. In Asle 4 Chiavarese ci sono 4 ospedalizzati in più rispetto a ieri per un totale di 10 ricoveri all'ospedale di Sestinevante. Le sorveglianze attive sono 333. E a fronte della situazione attuale non è escluso che Genova, in particolare il suo centro storico, sia dichiarato zona rossa e vengono quindi applicate le misure più restrittive. In attesa dell'ufficializzazione del nuovo DPCM si stanno già valutando le novità previste, la riduzione della quarantena e le modalità dei tamponi. Vediamo. Da 14 a 10 giorni per la quarantena e per i positivi un solo tampone negativo per certificarne la guarigione. Queste le principali novità che il Comitato Tecnico Scientifico ha messo sul tavolo del Governo, che sta preparando il nuovo decreto con le misure da introdurre per contrastare la diffusione crescente del Covid-19. La stesura del documento viene portata avanti insieme al confronto con le regioni. Da queste e in particolare dalla Liguria arriva la richiesta di utilizzare i tamponi veloci per individuare ufficialmente i casi. Oggi noi, se facciamo in un nostro pronto soccorso, piuttosto che al centro della commenda o nel laboratorio mobile che avevamo allestito a Spezia, il test antigenico rapido, se risultate non negativi, quindi che è possibile che abbiate il Covid, deve essere confermato attraverso un tampone di tipo tradizionale, nonostante i test antigenici abbiano ormai una capacità di diagnosi pari al tampone tradizionale, che invece richiede molte ore di sviluppo. Bene, se il Governo ci autorizzerà, come abbiamo chiesto come Regione, basterà il test rapido e questo ovviamente ci consentirà di isolare e tracciare molte più persone in un tempo assai più ragionevole. Tamponi molecolari e antigenici che potrebbero essere utilizzati per i contatti e questo, secondo alcune fonti, l'altro aspetto sanitario esaminato dal Comitato Scientifico. Questi, infatti, potrebbero essere realizzati dai medici di famiglia e dai pediatri, velocizzando le procedure. Sul fronte mascherine permane l'obbligo di indossarle all'aperto quando si entra in contatto con altre persone che non siano i congiunti, ma non sono obbligatorie solo nel caso di corsa o jogging. L'invito da più parti è quello di indossarle sempre nei luoghi pubblici, anche se da alcuni dati emerge che il 75% dei contagi avviene nelle relazioni familiari. Altro tema di confronto con le Regioni resta quello degli orari di apertura dei locali, per evitare assembramenti dalla Liguria, l'appello a non penalizzare oltre il limite un settore già messo in ginocchio della crisi sanitaria diventata inevitabilmente economica. Cercare di danneggiare il meno possibile un'economia che fa fatica, fa fatica molta, c'è un 10% di pil che manca, quindi per quanto riguarda bar, ristoranti, momenti di socialità, somministrazione di alimenti e bevande più in generale, cercare di prendere le misure minime che ci aiutino a contenere il contagio, ma dall'altra parte non ovviamente ci portino a chiusure particolarmente penalizzanti per attività che hanno già sofferto moltissimo. Sono cinque le classi poste in quarantena nell'Azle 4. Sono coinvolte tre istituti superiori, una scuola media e una scuola elementare. Si tratta di una seconda del Liceo Marconi del Pino di Chiavari, una prima del Lenteforma, sempre a Chiavari, e una quarta del Liceti di Rapallo. Gli altri due istituti coinvolti sono una media dell'istituto comprensivo Rapallo-Zoagli e una elementare di Rapallo. In ambito sportivo, invece, è risultato positivo al coronavirus il portiere della Virtus Entella Alessandro Russo. Il giocatore è stato testato durante il ritiro in corso a Tirregna della nazionale Under 21. Russo sarebbe asintomatico. Tra gli azzurrini è stata rilevata la positività anche del difensore dello Spezia Riccardo Marchizza. La FGC ha deciso in via precauzionale che la perita di domani contro l'Irlanda sarà giocata dalla nazionale italiana Under 20. L'approfondimento di oggi ci porta a parlare del campo profughi di Moria, sull'isola di Lesbo, un'area costruita per 3.000 persone ma che è arrivata a contenerne oltre 22.000. Le condizioni sono difficili e in Europa pochi conoscono le storie di chi qui arriva dopo mille fatiche. A raccontarle ci hanno approvato Rapallo i volontari della comunità di Sant'Egidio. Vediamo una sintesi. Le storie di sofferenza che gridano dal campo profughi di Moria sono ostaggio di un mondo che non vuole ascoltarle. L'incontro di Rapallo, voci da Lesbo, ha messo di fronte ad una realtà dura, ha fatto capire che c'è un mare di dolore che lambisce le coste europee dell'indifferenza. Tanto da far chiedere ai volontari. Come possiamo continuare a chiamarci europei quando tanto dolore si accalca alle nostre frontiere e tanti si voltano dall'altra parte? Quest'estate i volontari della comunità di Sant'Egidio hanno vissuto un'esperienza di incontro e di aiuto concreto. Al campo di Moria si sono alternate 200 persone da tutta Europa, 20 da Genova. Nessuna soluzione in tasca, ma già poterli ascoltare è stato per i migranti una luce inaspettata, raccogliendo storie che qui non arrivano. Quando stanno per arrivare alle rive greche, bucano il gommone su cui sono per evitare che la guardia costiera o qualcuno incontrandoli lì riporti in Turchia. Cioè per essere sicuri di essere accolti in Grecia, di non poter essere riportati indietro, bucano il gommone. Sono vite bloccate, a cui non viene proposto niente. Davvero si ha l'impressione che sia per i bambini che non fanno scuola, ma anche per gli adulti si tratti di tempo sprecato. Molti poi si ammalano. Pensiamo appunto alle ferite che si portano dentro per i conflitti. Una donna aveva il corpo segnato dall'esplosione di una bomba. Arapallo ha offerto la sua toccante testimonianza a Galit Hanna, rifugiato siriano, fratello di uno dei dodici portati in Italia dal Papa, a cui poi lui è riuscito a ricongiungersi. Stasera voglio chiedere a tutti voi una cosa. Vi chiedo di non dimenticare queste persone, perché sono umani proprio come voi. Ma anche gli animali vengono trattati meglio di loro. Io spero un giorno di avere soldi per aiutare i corredoni militari a portare questa gente al sicuro. Ognuno di noi deve fare la sua parte. La registrazione integrale dell'incontro Voce da Lesbo sarà trasmessa questa sera sul canale 15 di Telepace a partire dalle 21.10. A continuazione della conferenza promossa dalla comunità di Sant'Egigio, venerdì 16 ottobre alle ore 18 nella chiesa degli Emiliani di Rapallo, in via San Girolamo 23, si darà una preghiera intitolata Morire di Speranza. Sarà l'occasione per ricordare tutti coloro che sono morti appunto nei cosiddetti viaggi della speranza. Per il Signore non ci sono persone escluse. Tutti sono considerati da Lui degni del suo amore. Lo ha detto Papa Francesco all'Angelus. La Chiesa deve rinnovare le sue modalità di evangelizzazione e di carità per raggiungere i più lontani e aprire a chiunque le porti. Sentiamo. Una meravigliosa festa di amore e di comunione intorno al suo figlio unigenito. Questo è il progetto di Dio per tutta la famiglia umana. All'Angelus di una domenica piovosa, Papa Francesco ricorda che per due volte nel racconto i servi del re vengono mandati a chiamare gli invitati. Ma questi rifiutano, non vogliono andare alla festa perché hanno altro a cui pensare, i campi, gli affari. Tante volte noi anteponiamo i nostri interessi e le cose materiali al Signore che ci chiama. E ci chiama una festa. Il Signore non si arrende al rifiuto e anzi allarga l'invito anche ai più lontani senza escludere nessuno perché nessuno è escluso dalla casa di Dio. Il padrone, il re, dice ai messaggeri chiamate tutti, buoni e cattivi, tutti. Dio chiama i cattivi pure. No, io sono cattivo, ne ho fatto tante. Ti chiama, vieni, vieni, vieni. E Gesù andava a pranzo con i pubblicani, che erano i peccatori pubblici lì. Dio non ha paura della nostra anima ferita, di tante cattiverie, perché ci ama, ci invita. Come il Signore, anche la Chiesa, afferma Papa Francesco, è chiamata a raggiungere i crocicchi odierni, cioè le periferie geografiche ed esistenziali dell'umanità, tutti quei luoghi dove vivono brandelli di umanità senza speranza. Si tratta di non adagiarsi sui comodi e abituali modi di evangelizzazione e di testimonianza della carità, ma di aprire le porte del nostro cuore e delle nostre comunità a tutti, perché il Vangelo non è riservato ai pochi eletti. Anche quanti stanno al margine, perfino coloro che sono respinti, coloro che sono disprezzati dalla società, sono considerati da Dio degni del suo amore. La misericordia di Dio è un dono del suo amore, afferma Francesco, è la grazia che va accolta con stupore e con gioia. Il Papa conclude rivolgendo una preghiera a Maria Santissima perché aiuti tutti noi a fare come i servi della parabola, ad uscire dai nostri schemi e dalle nostre vedute ristrette per annunciare a tutti l'amore gratuito del Signore. Al termine della recita dell'Angelus, il Pontefice ha chiesto una preghiera perché i fedeli laici, specialmente le donne, partecipano maggiormente nelle istituzioni di responsabilità della Chiesa. Dobbiamo, ha detto Francesco, promuovere l'integrazione delle donne nei luoghi in cui si prendono le decisioni importanti, senza cadere nei clericalismi che annullano il carisma laicale e rovinano anche il volto della Santa Madre Chiesa. La comunità della Gilestra, Sestilevante, ha festeggiato la nostra Signora del Soccorso. La Santa Messa è stata celebrata da Monsignor Alberto Maria Careggio che 16 anni fa accompagnò Don Mauro Sapia nel suo ingresso come parroco. La festa ha richiamato tanti fedeli desiderosi di incontrarsi nonostante la pandemia. Vediamo. Stare davanti a Dio è la prima forma di preghiera. Non servono tante parole, dice tutto il cuore. Lo insegna a Maria che nello stare di fronte al Signore ha espresso se stessa. Nella festa di Nostra Signora del Soccorso a San Bartolomeo della Ginestra, Monsignor Alberto Maria Careggio la indica come preghiera assoluta, fatta di pensiero e affetto e anche memoria. In questo senso si collocano il Rosario e la Talare di San Giovanni Paolo II che il Vescovo di Ventimiglia Sanremo ha portato in chiesa. Il Rosario ci richiama che non dobbiamo distaccarci nella preghiera quotidiana. Il sangue di Giovanni Paolo II vuole dire che ogni giorno anche noi abbiamo la nostra goccia di sangue da offrire al Signore nei sacrifici, nei momenti di difficoltà, nelle prove della vita. Il riferimento è alla pandemia con l'invito ad avere rispetto e fiducia nella Vergine, che è come una madre che non abbandona mai i figli, come a Cana si accorge del bisogno e va in soccorso. Penso a quello che stiamo vivendo, a quello che abbiamo vissuto. Credo che lo sguardo di Maria è quello sguardo che comunque ci fa sempre ben sperare e ci dice andate da Gesù che troverete quella parola che può essere risposta alle vostre domande, ai vostri bisogni, alle vostre fatiche. I fedeli hanno dovuto rinunciare quest'anno alla maggior parte delle iniziative collaterali a causa delle disposizioni anticontagio, un modo per tornare all'essenziale della festa mariana. Soprattutto l'importante è ricordarsi che veramente sempre al centro anche di queste feste, di queste celebrazioni, c'è veramente il nostro amore, il nostro affetto per Maria. Se da una parte l'emergenza sanitaria ha fermato molte iniziative, dall'altra c'è voglia di riprendere attività e incontri, a partire dall'oratorio. Sicuramente il laboratorio del teatro, della chitarra, tutti questi laboratori come il catechismo devono andare avanti in modo diverso, però devono continuare. Dobbiamo vederci se stiamo studiando, ci stiamo pensando. Si sono celebrati questa mattina nella chiesa di Santa Maria di Nazareth, a Sestri Levante, ai funerali di Maria Angela Milanta, tante le persone che hanno voluto portare il loro ultimo saluto all'ex assessore ai servizi sociali del Comune e figura molto impegnata nel mondo del volontariato del Tiguglio. Conduglianze speciali sono arrivate anche dall'Ucraina, dall'Unione di Cernobil, dalla regione Poltava, dove risiedono moltissimi bambini che nel corso degli anni sono stati ospitati nel Levante grazie all'iniziativa voluta e sostenuta in questi decenni proprio dalla Milanta. Maria Angela esprimeva tutti i sentimenti, le forze, i pensieri per il bene della gente italiana e ucraina, animatrice dell'iniziativa fuori dei minori ucraini che la ricorderanno per sempre. Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Teologia Mater Ecclesia della Diocesi di Chiavari. Le lezioni si terranno in presenza nelle aule di piazza di Nostra Signora dell'Orto, 26. Si terranno a partire dal 26 di ottobre. Novità di quest'anno il corso opzionale del lunedì sera, incentrato sul lebarraismo. L'opportunità è offerta sia a chi segue i corsi come studente ordinario, sia anche come semplice uditore. Vediamo. Quali sono i corsi che sono stati inseriti nell'anno scolastico? Innanzitutto ci sarà un anno propedeutico in cui ci saranno le materie introduttive, quindi introduzione alla Sacra Scrittura, storia della filosofia, teologia fondamentale, teologia liturgica, che avrà quest'anno un'attenzione particolare anche alla traduzione italiana, alla nuova traduzione del messale. E poi abbiamo il biegno, quindi quest'anno approfondiremo nella Sacra Scrittura tutto il Nuovo Testamento, quindi ci saranno i Vangeli, le lettere degli Apostoli. Dal punto di vista della teologia dogmatica faremo invece tutti e sette i sacramenti. Ci sono novità per il 2020-2021? Concluderemo il percorso di introduzione alle religioni monoteiste. Lo scorso anno avevamo fatto il corso sull'Islam, quest'anno nel secondo semestre, quindi tra febbraio e marzo, faremo quattro incontri sull'ebraismo. Chi può partecipare? Può partecipare chiunque. L'iscrizione può essere fatta da studenti che frequentano solo alcuni corsi, quindi che non hanno poi l'obbligo degli esami, oppure studenti che si iscrivono a tutto il corso e quindi poi danno gli esami. Quando partiranno i corsi e come si terranno? I corsi partiranno lunedì 26 ottobre. Le lezioni si terranno il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 18.45 fino alle 22. Sono quattro ore di 45 minuti ciascuna. Saranno in presenza? Sì, saranno in presenza. Noi, come dire, dopo aver interrotto lo scorso anno a marzo, vorremmo riprendere in presenza sempre nelle aule qui a Pianterreno di Piazza Nostra Signora dell'Orto 8. Chiaramente se ci fossero problemi o difficoltà le lezioni continueranno da remoto. Partono le iscrizioni, che cosa bisogna fare? Sì, le iscrizioni partono qui nella portineria del seminario, dalle 17 alle 19 si sarà la segreteria aperta, quindi si può venire e chiedere il programma dei corsi e quindi iscriversi. Il premio Nonni dell'Anno, organizzato dall'Associazione Culturale Uleudu, è giunto quest'anno alla sua 32esima edizione. Sabato all'Hotel Due Mari, a Sessi Levante, hanno ricevuto il riconoscimento Carmen Fava-Rollando, Monsignor Bruno Fasani, Andrea Lavaggi ed Anto Enrico Canale, ideatore di questa iniziativa. Noi eravamo presenti, vediamo. Mai avrebbe pensato di essere lui il Nonno dell'Anno quando, 32 anni fa, ideò questo riconoscimento. Anto Enrico Canale, presidente merito dell'Associazione Culturale Uleudo, ha ricevuto sabato il premio Nonno dell'Anno 2020 insieme a Carmen Fava-Rollando, Monsignor Bruno Fasani e Andrea Lavaggi. Con questa iniziativa, ogni anno Uleudo, in occasione della giornata dedicata ai nonni, ne sceglie alcuni che si siano distinti nella promozione culturale e sociale del territorio. Se questo premio per il quale si è lavorato, è cresciuto come un fanciullo, è nato dal niente e un domani la storia della vita ti dice che sei un nonno e lo sono, felicissimo perché la gioia è di avere tre meravigliosi nipoti, credo che sia una soddisfazione. Canale è stato premiato proprio per il suo impegno negli anni a sostegno di questa iniziativa. Carmen Fava-Rollando per il suo attivismo nel volontariato a Sestri Levante e il suo attaccamento al territorio. Monsignor Fasani invece per il suo ruolo di giornalista, direttore e collaboratore di numerose testate, oltre che di opinionista televisivo. Andrea Lavaggi come artista sestrese di spicco nel campo della scultura e della pittura. Accanto ai premi per i nonni, l'iniziativa include poi un concorso rivolto alle scuole. Primo premio per la pluriclasse della primaria Zuccarello dell'Istituto Comprensivo Albenga II, per il lavoro collettivo svolto nonostante l'essere vincolati alla didattica a distanza per la chiusura delle scuole. Non sono mancati poi i riconoscimenti per chi si è impegnato durante l'emergenza sanitaria. All'Italia, nella persona del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ai responsabili della centrale operativa del 112, Roberto Sanna e Valeria Parodi, e infine al direttore dell'ospedale Gaslini di Genova, Paolo Petralia. Il premio speciale in memoria del professor Davide Bixio è andato ai direttori delle due televisioni locali, Don Fausto Brioni per Telepace e Marco Pinat per Entella TV. Tanta emozione per i premiati, ma soprattutto per chi ha visto questo concorso nascere. Non mai pensavo di durarla tanto e di arrivare anche a questo traguardo. Felicissimo e felice di averlo ricevuto. Venerdì 16 ottobre a Sesti Levante riprende il corso di teatro dell'associazione Time Up. Tutto il mondo è un palcoscenico rivolto agli aspiranti attori dai 16 anni in su. Il ciclo di lezioni diretto da Mercedes Martini, che giunge quest'anno alla dodicesima edizione, inizierà con un incontro introduttivo per tutti coloro che sono interessati. Appuntamento alle 18.30 nella sala Oleandro dell'ex Convento dell'Annunziata. L'ingresso è libero nel rispetto delle normative anticontagio. Per informazioni scrivete all'indirizzo di posto elettronico as.timeup.gmail.com oppure telefonate al 349 27 51 207. Un risveglio decisamente fresco per buona parte della Liguria in questo avvio di settimana. La perturbazione che ci ha interessato nella giornata di domenica ha portato la neve in appennino sopra i 1.400 metri. Imbiancati il Prato della Cipolla, la Vetta del Monte Bue. Vedete che belle immagini che ci anticipano un po' l'inverno. Decisamente il calo delle temperature che abbiamo sentito tutti nelle zone interne, in montagna, con valori compresi tra i 4 e i 7 gradi, nei fondovalle e tra 1 e 3 gradi intorno agli 800 millimetri. Lo zero termico intorno ai 1.200 metri, con minima di meno 3,2, registrata sul Monte Bue in Val d'Aveto. Lungo la fascia costiera i lavori si sono attestati tra i 10 e i 12 gradi. L'avvio di settimana all'insegna del miglioramento vedrà una certa variabilità solleggiata nella giornata odierna e in quella di domani, con schiarite lungo la costa e maggiori addensamenti sui versanti padani dell'Appennino. E ora vediamo il punto news con le altre notizie della giornata. Può partire. Al via gli interventi di pulizia straordinaria del canale di deflusso delle acque in via Nostra Signora del Soccorso a Sestri Levante, i lavori comportano alcune modifiche alla viabilità, che saranno in vigore sino a venerdì 16 ottobre. Transito ad una sola corsia di vieto di sosta in via Nostra Signora del Soccorso e a San Bartolomeo, nel tratto tra l'incrocio con via della pace nel mondo e via Monsignor Vattuone. A Rapallo è iniziata la pulizia e manutenzione del canale scolmatore delle acque bianche in via Mameli. I lavori coinvolgono il tratto pedonale della strada. L'obiettivo è una miglior regimazione delle acque piovane, riducendo il rischio di allagamenti in caso di precipitazioni intense. Ripartito a Lavagna il servizio di refezione per alcune classi dell'infanzia e della primaria dell'Istituto Comprensivo, è stato istituito il Lunchbox, un servizio di monoporzioni e vettovagliamento usa e getta a disposizione di ogni alunno. Auto in sosta sulle corsie riservate alle bici, denuncia di FIAB Genova per il disagio e il pericolo per i ciclisti. L'associazione invita a segnalare i parcheggi illeciti che ostacolano il transito sulle piste e corsie ciclabili genovesi. Per farlo è necessario compilare un modulo che si trova sul sito adbgenova.it o inviare una foto via mail all'indirizzo ciclismourbanochiocciolaadbgenova.it Stessi Rilevante partecipa alla prossima edizione del TTG Travel Experience, la fiera del turismo che si terrà a Rimini da mercoledì a venerdì prossimi. Un'agenda ricca di appuntamenti strutturati su due giornate durante le quali le società presenteranno il comprensorio promuovendo il turismo outdoor e attività diversificate. Da oggi è possibile ascoltare Radiopace sul proprio telefonino grazie all'app aggiornata di Radioplayer Italia disponibile per telefoni Android e iOS. L'applicazione disponibile anche come skill per Alexa permette di trovare la stazione radio in base alla posizione dell'utente nella sezione radio intorno a te. Appena giunta in redazione questa notizia di Cronaca, ve la leggo subito, intervento dei Vigili del Fuoco di Chiavari questa sera intorno alle 18.15 in Piazza Milano per soccorrere un uomo che si è procurato una frattura scomposta a una gamma cadendo da una scogliera. Il cinquantenne stava per effettuare un'immersione quando è scivolato rimanendo incastrato tra le rocce provocandosi l'infortunio. Sul posto anche l'automedica del 118 e l'ambulanza della Croce Rossa di Chiavari che lo ha trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna. Quasi due settimane di chiusura a Cogorno per la strada provinciale 34 che sarà interdetta al traffico veicolare con orario continuativo da oggi sino a sabato 24 ottobre. La strada è oggetto di interventi da parte della città metropolitana di Genova. Per accedere a via Monte San Giacomo e a via degli Olivi si consiglia quindi il transito lungo via delle Galle. E ora come di consueto la scheda degli appuntamenti per la giornata di domani. La sigla. Eventi e manifestazioni in agenda per martedì 13 ottobre. Appuntamento settimanale con il mercato agricolo delle produzioni a chilometro zero in via Salvi a Sestri Levante. Le bancarelle con i prodotti alimentari dei coltivatori locali sono presenti dalle 9 alle 13. Il Museo Scientifico Sanguinetti Leonardini è aperto alle visite dalle 9 alle 12. Nei locali del Seminario Vescovile di Chiavari sono esposti più di 300 apparecchi datati intorno ai primi anni dell'Ottocento. Prosegue a Chiavari l'apertura alle visite della mostra pittorica di Elettra Spallapizzorno intitolata Luce. Le opere che mostrano colorati scorci della riviera genovese e paesaggi marini sono esposte nello spazio Casoni di Piazza San Giovanni, aperto dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. A Genova è aperta alle visite la mostra d'arte contemporanea Mindset, 15 opere pittoriche dell'artista Paolo Ceribelli che esplorano il tema delle barriere imposte alla mente umana. L'esposizione si trova nella Galleria Studio Rossetti di Via Chiabrera 33. Gli orari di apertura sono 10.20 e 12.30 e nel pomeriggio dalle 15.30 alle 19. Lo spettacolo di Massimo Minnella intitolato Genova Buenos Aires sola andata dedicato a storie di immigrazione come quella della famiglia Bergoglio in Argentina va in scena a Palazzo Ducale di Genova. L'inizio è alle 18 nella sala del minor consiglio. In questa occasione, oltre al supporto della fisarmonica di Franco Piccolo, è prevista la partecipazione straordinaria della soprano Daria Masiero. L'organizzazione di volontariato per il coordinamento dell'auto mutuo aiuto in Liguria organizza la proiezione del film Al Dio Ignoto e l'incontro con il regista Rodolfo Bisatti. Appuntamento alle 20.30 al Cinema Sivori di Genova. Per partecipare è necessario prenotarsi attraverso il sito circuitocinemagenova.com Prima di chiudere lo sport con la vela, Capitani Coraggiosi 3 di Federico Felcini e Guido Santoro dello Yacht Club Chiavari è l'equipaggio vincitore della 52esima edizione della Coppa Velica dall'Orto organizzata dallo Yacht Club Chiavari. Delle 50 imbarcazioni iscritte, solo 30 si sono presentate al via a causa del posticipo di una settimana della gara e soprattutto a causa dell'attuale situazione sanitaria. La classifica per classe, primo nella categoria Crociere e vincitore della Targa d'Argento Nicola Dall'Orso è stato Emotion di Francesco Guerci. Nella classe IRC, primo posto per Free Spirit di Paolo Rossi. Nella classe ORC ancora Capitani Coraggiosi 3. Durante la regata di ritorno a Chiavari, grazie a un vento che ha toccato i 25 nodi, è stato battuto il record di velocità. Atalanta 2 di Carlo Purinegri ha percorso la distanza a Porto Venere Chiavari in sole 2 ore e 39 minuti battendo di 9 minuti il record precedente che risaliva al 1999. Il prossimo appuntamento con le regate dello Yacht Club Chiavari saranno per sabato prossimo per la terza tappa del campionato vela d'autunno 2020. La regata sociale Open Memorial Romano Caselli. Questa era l'ultima notizia del giornale. Come sempre il prossimo appuntamento è rinnovato domani alle 12.45 con Tigulio Oggi. Io vi ringrazio per la vostra cortesa attenzione e vi auguro una buona serata con i programmi della rete. Arrivederci. Musica Musica Autore dei sovrapposti